Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali in diretta come sempre oggi è mercoledì 24 di febbraio vediamo il santo del giorno, oggi è San Etelberto, re del Kent, è un santo e qui siamo intorno al 500 e dobbiamo vederlo in Inghilterra perché insieme a Gregorio Magno ed Agostino di Canterbury sono coloro che hanno portato il cristianesimo in quelle zone, appunto Canterbury e quant'altro tra l'altro un sovrano che insieme alla moglie Berta è stato uno dei più potenti a quell'epoca adesso vediamo le previsioni, no il sole è sorto alle 6.53, tramonterà alle 17.49 guardiamo il tempo adesso, ecco qua la cartina meteorologica come sempre la grafica animata dove siamo andati a finire qua? Aspetta che ritorniamo sull'altra pagina eccola qua, abbiate pazienza, eccola qua, allora questa è la cartina dicevo animata della protezione civile delle Marche che per la giornata di oggi, mercoledì, prevede un cielo al mattino irregolarmente nuvoloso per attività comuniforme in particolare sulle zone basso-colinare e costiere centro-settentrionali, cui seguiranno ampie schiarite nel pomeriggio nel corso della mattinata dunque dovremmo attenderci brevi rovesci in particolare sulla costa con fenomeni invece assenti nel corso del pomeriggio. Per la giornata di domani, giovedì 25 di febbraio, ancora cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni dalla mattinata deboli con piovaschi sparsi nelle zone appenniniche e nel settore nord della regione mentre per la giornata di venerdì vedete un po' meglio sulla costa pesarese mentre continua a piovere sull'entroterra e variabilità invece sulla costa centro-meridionale le temperature in minime sono in lieve aumento. Il resto della settimana continuerà ad essere caratterizzato da correnti sud-occidentali che favoriranno il transito di sistemi nuvolosi con deboli fenomeni di instabilità alternate a delle schiarite. Allora abbiamo la cronaca, abbiamo la sanità naturalmente in primo piano e tutto questo nei tre quotidiani che come tutte le mattine sfogliamo grazie al nostro touchscreen quotidiani che troverete chiaramente in edicola nella vostra edicola di fiducia. Allora partiamo dal resto del canino di Fano che in prima pagina così come gli altri quotidiani mette in evidenza la notizia di cronaca l'arresto di due magrebini che avevano deciso, non è certamente la prima volta ma insomma quando avviene, quando vengono scoperti questi casi fanno comunque notizia perché? Perché avevano nascosto degli ovuli, lo vedete nella fotografia qua mentre le mani con un taglierino, con un coltellino aprono appunto l'ovulo contenente eroina avevano ingerito sei ovuli e dunque per tentare di passare i controlli di non essere scoperti, però chiaramente i carabinieri che ormai hanno esperienza da vendere in questo senso hanno capito che c'era qualcosa che non quadrava e quindi li hanno portati in ospedale a Santa Croce, li hanno fatto fare le radiografie e hanno scoperto che questi due magrebini fotografati qua, vedete la stazione di Fano la stazione di treni di Fano, sono questi due soggetti qui, c'è anche un terzo, detto lo sporco ma questo poi, un accoro dei dissapori, se ne andò per i fatti suoi questi due sono stati fermati e dentro appunto avevano questi sei ovuli che avrebbero fruttato qualcosa come 45 mila euro e questi due arrestati appunto erano soci tra loro sotto invece, sempre sulla pagina di Fano del resto del Carlino la fiaccolata di solidarietà contro le vittime dei furti che è stata organizzata dalla Lega Nord che dà appuntamento davanti al bar che è stato preso di mira dai ladri questo polvere di caffè che si trova nel quartiere di Sant'Orso a Fano che negli ultimi tempi è stato veramente tartassato dai ladri, credo 5 colpi in pochissimi mesi ebbene, tornando all'appuntamento per lunedì, dicevo l'orario è dalle 18 alle 20 poi c'è un'inchiesta del resto del Carlino di questa mattina che si sviluppa su due pagine la prima è quella a pagina 13 del Carlino di Fano e l'altra sul nazionale l'inchiesta riguarda, è un reportage che riguarda il numero esagerato di vongolare che pescano nel nostro mare adriatico, insomma un mare sovraffollato il viaggio dei vongolari in un mare di assurdità una mattina al porto di Fano, dall'arrivo delle barche ai sacchi da distribuire il racconto dei 40 pescatori alle prese con i problemi di sovraffollamento e di pezzatura cioè la misura delle vongole, tra l'altro che è di 25 mm al di là dell'adriatico invece dicono là non c'è taglia quindi possono prendere anche quelle piccole piccole non resta che sperare nell'Europa ma alcuni numeri che il Carlino evidenzia questa mattina 221 sono le vongolari marchigiane su un totale di 710 in tutta Italia 150 km invece la lunghezza della costa, costa marchigiana e praticamente ogni 680 metri c'è una vongolare c'è anche l'intervista a Torino Giardini che è il responsabile di Coldiretti Pesca che spiega l'origine di questo eccesso di licenze dunque di questo sovraffollamento Giardini parla di un paradosso generato da un esperimento politico qual è questo esperimento? è un esperimento nato nel 1994 quando l'allora Ministero della Pesca diede vita ad un progetto di pesca sperimentale dei molluschi bivalvi rilasciando allo scopo una novantina di licenze di pesca in tutta Italia di queste 90, pensate 74, non si sa perché, vennero attribuite alle marche e sulla pagina nazionale invece del Carlino Marche pescatori di vongole in rivolta troppe barche, dateci la Romagna su 150 km di costa c'è la più alta concentrazione d'Italia sotto la soluzione la soluzione secondo il Presidente Fabio Marcaccini che è il Presidente del Consorzio Gestione Molluschi di Pesca Urbino dice la soluzione c'è devono ritirare le licenze e poi dice ai miei tempi io vado in mare dal 1971 prima si pescava tanto così i molluschi ricrescevano poi la cronaca con la morte di un quarantenne un calciatore argentino che per diverso tempo ha giocato e ha militato anche nei nostri campionati, quelli provinciali muore in un incidente un ex calciatore del Mondolfo Leandro Temporini di 40 anni calciatore argentino per diverse stagioni anche in compagini della nostra provincia è decetuto sabato scorso verso le 5 del pomeriggio in un incidente stradale in Malagueno Temporini era a bordo della sua Chevrolet Sonic nera quando ha perso il controllo dell'auto ed è uscito dalla carreggiata perdendo la vita e poi Piscolini sul giornale di oggi sul Carlino fa un po' la cronistoria di quelle che sono state le tappe italiane tappe sportive di questo giovane papà che è deceduto il clima pazzo il clima pazzo c'è un caldo che insomma non so se tanto mi da tanto non so come arriveremo all'estate ma comunque il clima sta stravolgendo un po' anche la natura abbiamo abbiamo praticamente tanti ortaggi che sono arrivati in anticipo sulle nostre tavole asparagi e fragole è primavera anche a tavola il caldo eccezionale è anticipato di un mese l'arrivo di alcuni ortaggi e i prezzi calano la Coldiretti però lancia l'allarme con tre colpi dice devastanti per tutto il settore guardate qua che belle fragole il rischio qual è è che gli alberi da frutto che sono già fioriti potrebbero essere minacciati da una improvvisa gelata che potrebbe anche ritornare visto che comunque siamo ancora in inverno e sulle piante malate normalmente il freddo agisce da disinfestante naturale contro i parassiti e il cardino ricorda che un febbraio così caldo non c'è mai stato 9 gradi circa 9,4 di media insomma quasi tutti i giorni davvero c'è qualcosa che boh non lo so forse non va ma comunque il caso invece ricorderete l'inchiesta che ha coinvolto il dottor Gianfranco Franchi pediatra ex primario di Fano finito nei guai con la giustizia per una serie di visite specialistiche senza il rilascio della regolare ricevuta era stato scoperto dalla guardia di finanza rinviata l'udienza il GUP per decidere la cifra da rimborsare la difesa del noto pediatra fanese cerca un accordo con l'azienda Marche Nord prima del processo appunto per stabilire la cifra da rimborsare adesso andiamo sul Corriere Adriatico apriamo la pagina di Pesaro in apertura lavori allo stadio e 40 nuovi parcheggi accordo tra il comune di Pesaro e il quartiere successivamente altri 150 stalli per facilitare l'accesso al Benelli poi da Pesaro e Urbino PD nessun dialogo stiamo parlando degli ospedali piccoli quelli di comunità nessun dialogo con i sindaci Maurizio Gambini sindaco di Urbino rinvia il giudizio sulle modifiche della delibera 1183 e rileva l'autismo del partito resta il grande valore dell'impegno dei primi cittadini difensori della sanità e di questi territori sulla pagina di Fano anche qui la cronaca due spacciatori avevano ingerito l'eroina perquisizione a vuoto ma i carabinieri sottopongono i sospetti ad una radiografia che evidenzia questi sei ovuli nell'addome recuperati 260 grammi di sostanza stupefacente pari ad un giro di 45 mila euro il rifornimento era avvenuto in Campania mentre otto anni di carcere al compagno padrone che picchiò la modella Rosaria Aprea per gelosia Rosaria Aprea che venne anche a Fano perché era stata eletta Miss Yacht Club la prima aggressione tra l'altro avvenne proprio qua in città pubblicate le motivazioni della Cassazione che ha confermato la pesante condanna in appello gli autisti della Solaris a casa la cooperativa esce dall'Ati ma Croceazzurra ne ha recuperato la gestione grande incertezza per i lavoratori che con l'Asur hanno recuperato solamente due stipendi arretrati ecco tutte le bugie di Talè e dei Democrat Talè, Cuccaroni e Londèi scrive il Corriere possono raccontare le balle che vogliono ma la grave situazione del nostro ospedale la vivono ogni giorno gli utenti così parla il capogruppo di Pergola Antonio Baldelli che torna sulla situazione del nosocomio pergolese anche qui si ripeterà lo stesso copione già visto negli ospedali di Sasso Corvaro Cagli e Fossombrone da Senigalli invece ride dei ladri lungo l'Arceviese nel Mirino la sede degli Arcieri e una tenuta a Borgo Ferretti molti danni ma il bottino scarso una donna derubata dal portafogli all'Eurospin di Via Cellini furto invece in un'auto sul lungomare apriamo adesso invece il messaggero il messaggero la pagina di Pesaro comune la rivoluzione è green è verde perché perché quando si parla di green c'è qualcosa che riguarda il risparmio energetico in particolare o comunque soluzioni che non inquinano ecco perché si dice green illuminazione 6 milioni per 10 mila led in un'ottica di ottimizzazione energetica gli impianti obsoleti saranno sostituiti consentendo un risparmio del 30% a centro pagina anche qui la fotografia dei due magrebini arrestati poi il racconto di una tartarughina avete presente quelle che si comprano quando anche alla fiera per esempio ci sono queste tartarughine ebbene qualcuno evidentemente quando ha visto che cominciava a crescere perché non sono finte sono vere quindi questo chiaramente è una banalità questa affermazione ma è per dire che non è un giocattolo e quindi queste cose come gli animali che si comprano a Natale che poi vengono abbandonati prima delle ferie estive cioè questa qui è stata abbandonata a Ponte Sasso Trafano e Marotta una tartarughina di circa 10 cm di lunghezza era immobile l'ha trovata una ragazzina che poi ha chiamato ha chiamato chi ha chiamato chi doveva chiamare insomma e poi è stata recuperata una forse tra le tante tante in questi tempi soprattutto in inverno se ne trovano della specie caretta caretta prive di vita questa per fortuna anche se non è di quella specie lì chiaramente ma per fortuna era viva di sanità invece si parla sulla pagina 34 del messaggero sanità ceriscioli pronti a cambiare ma basta proteste l'apertura del governatore a condividere il nuovo modello sulle case della salute come saranno trasformati i piccoli ospedali che dal primo gennaio del 2017 questi 10 piccoli ospedali tra cui Cagli Chiaravalle Fossombrone Sassoferrato Treia per esempio dal 2017 inizieranno una nuova vita al posto del pronto soccorso ci saranno ambulanze attrezzate con medici 24 ore su 24 cure intermedie assicurate luci della città l'abbiamo visto come la città di Pesaro si sta convertendo con un investimento importante all'ED referendum day invece si accelera per il 17 di aprile elettori alle urne per Trivelle e per la fusione Pesaro-Mombaroccio ma ci sono ancora dei nodi legislativi da sciogliere il problema di coloro che non hanno la casa e che dormono pensate al San Salvatore dentro l'ospedale c'è gente che non ha una casa non sa dove andare a dormire e per non passare la notte alla diaccia sta all'interno del San Salvatore non è solo San Salvatore ci sono anche altre strutture altri ospedali dove la gente va e si cerca di dormire dove può un problema sociale non solo dell'azienda ospedale riuniti Marche Nord la sala d'attesa del pronto soccorso è tornata ad essere un dormitorio e l'azienda ribatte a chi solleva il problema le soluzioni vanno trovate in accordo con le istituzioni all'interno della legge si accascia e muore il custode della casa di Raffaello di Urbino Marco Mariotti 59 anni si è sentito male ieri mattina nel centro storico di Urbino inutili tentativi di soccorso stava andando come tutti i giorni ad aprire il museo che oggi e domani chiaramente resterà chiuso ai visitatori per lutto mentre guardate qua veramente la stupidità dell'uomo non ha confini ci sono trappole contro i ciclisti nei boschi delle Cesane quelli che con i biker con le biciclette vanno nei sentieri dopo le trappole di chiodi e bastoni contro i biker sono stati segnalati qualche tempo fa nei boschi delle Cesane tra Fossombrono e Urbino adesso c'è qualcuno che probabilmente qualche sconsiderato per non dire altro prosegue nei suoi progetti folli e sta mettendo a rischio l'incolumità di questi frequentatori di questi sentieri meravigliosi montani e qualcuno ha pensato di attaccare un cavo d'acciaio di circa 80 cm da terra ben legato da una pianta all'altra per far cadere appunto questi ciclisti questi biker che vanno con le biciclette lungo lungo questi sentieri tra questi boschi davvero belli bellissime delle Cesane e questo è finché chiaramente non verrà scoperto droga era il corpo il mezzo di trasporto siamo sulla pagina di Fano del Messaggero due spacciatori arrestati dai carabinieri poi il cartellone dell'estate fanese cerca sponsor già in moto la macchina organizzativa coinvolti tutti coloro che hanno contribuito al successo delle iniziative natalizie poi un corso che è stato presentato ieri il caffè del pasticcere a Fano un corso per volontari dell'Avuls l'associazione che assiste gli anziani soli e le persone bisognose sia in ospedale sia a domicilio se avete così voglia di fare questo di fare i volontari all'Avuls qui sul Messaggero di oggi ci sono tutti i riferimenti io mi fermo qui grazie per aver seguito Occhio ai giornali l'appuntamento è per domani mattina come sempre alle 7 e mezzo questa sera invece c'è il TG Occhio alla notizia con le notizie del giorno naturalmente che tra l'altro avrete in anteprima sempre in tempo reale sul nostro sito internet occhioanotizia.it arrivederci a presto